Musica Salve amici appassionati di Football Manager qui con voi come sempre c'è Mike94 e bentornati o benvenuti sulla nostra serie con lo Spezia spero che vi sia piaciuto il tutorial del video precedente con i giocatori più forti diciamo fra i svincolati fra una o due settimane sull'altro mio canale pubblicherò anche una lista di altri svincolati più o meno forti rispetto a questi precedenti che vi potrebbero essere sempre di aiuto ovviamente quello credo che però quel video lo dividerò in due parti per non fare un'altra volta un video di 42 minuti come già è uscito il precedente ora non mi sentivo bene, anzi non mi sento bene non io stesso ma il microfono e voglio vedere i vari resoconti ho aggiunto altri giocatori oltre a quelli che vi ho fatto già vedere ho chiesto allo staff di vederne altri vediamo un po' mi è stato offerto questo Febang che non mi sembra affarto scarso poi costa 8000 euro e si è un 38enne quindi vediamo un po' lo staff che ci dice andiamo un po' avanti sì, ovviamente Shevchenko deve ancora firmare e firma arriva lui al posto del nostro secondo allenatore molto molto felice addirittura a giorni ci sarà la partita con l'Etoile e non credo che la giocheremo in questo video oppure sì, non lo so, vedremo potrebbe essere divertente fare la nostra prima partita onzola con lo Spezia vorrei anche vedere altri giocatori però con noi allora, lo Spezia ha acquistato Shevchenko purtroppo solo come secondo allenatore non come attaccante Furlan mi dicono che non ci serve vabbè, chi se ne frega il presidente Lempoli si disdice, ok? buon per lui cioè se ne va ok sì, volevo ancora vedere questi qua che avevamo messo fra i trasferimenti cioè che se ne dovrebbero andare via beh, io sono ancora più convinto che questo abbia le caratteristiche per essere un nostro ex giocatore vediamo se per 325.000 euro se lo pigliano migliore anche il ricercato beh, vediamo un po' se sempre per 625.000 se lo prendono oppure lui e poi chi altro ci sta che vorremmo andare via ci sono un bel po' di giocatori che vengono cercati da altre squadre il problema è uno solo che come se chi già mi conosce e chi segue anche le serie che faccio nell'altro canale sa benissimo che io di solito non tendo a comprare giocatori senza venderne altri soprattutto in posizioni dove già ci sono parecchi giocatori come vedete difensori centrali oppure centrocampisti io non vi posso permettere di prendere che ne so un Sissokoco che vi ho fatto vedere nella scorsa partita se non se ne va un bovo quindi mi auguro solamente che se ci arrivano belle offerte anche di 2-3 milioni arrivino prima della fine del calciomercato cioè nel senso non proprio all'ultimo perché potrebbe essere un bel problemino io sto ancora aspettando lo staff di vedere che cosa pensa di questi giocatori che gli ho detto ce ne sono parecchi da visionare speriamo che lo facciamo in tempo intanto salverei anche a breve perché se no si ecco qui perché arrivano e salvo un attimo e ci vediamo a breve andiamo a vedere subitissimo che cosa vogliono allora senza linee ha firmato con lo spezia che cosa farà lui capo osservatore bene ah si li abbiamo allora rapporto su caseres si semmai inizio a mettere dei puntini sui giocatori allora terzino sinistro 28 anni si mi ricordavo che mi piaceva parecchio rapporto beh lo devo vedere qua leggi rapporto ecco qui Giovanni Pisano ritiene che caseres sarebbe un acquisto di qualità beh lo penso pure io molte squadre di serie sarebbero contenti di averlo insomma non crede che possa migliorare per il futuro si quindi io sottolineerei caseres perché non è affatto scarso io inizierei anche a vedere quanto ci chiede il suo osservatore vediamo anche se ci sono altre squadre altre squadre vabbè comunque ovviamente titolare almeno fino al 2016 e che quanto io lo siamo free io direi sempre al minimo poi saranno loro a dirmi più senso continua benissimo ho sbagliato proprio alla grande ho fatto una stronzata offrirgli poco però di solito quando gli offri pochissimo poi sparano cifre in alto stipendio massimo 300.000 no ma questo è il nostro boh vabbè mi dispiace non devo esserci riuscito sti cazzi non sarà l'unico terzino mi auguro perché non ne ho messi tanti altri miguel sarebbe terzino destro brito e anche uno scarso ah lui addirittura ci credono ancora di più rispetto a quello precedente sarebbe un acquisto discreto non può rimiere non sia più gioco ma posso diventare un giocatore importante per la squadra contatta per l'ingaggio ok vorrei vedere se com'è rapporto con te nessuno ok titolare facciamo almeno due anni e io direi 36 perché voglio te quanto chiedo allora 300.000 sì facciamo 10 partite e ti offro 190.000 no per forza 300.000 proviamo 220 perché è quello che il massimo posso offrire e sinceramente non sono proprio convinto di lui anche perché ho altri nomi in mente facciamo commissione di argento un po' più alta così vediamo se 220 accetta no si è fissato con 300.000 250 e facciamo no premi non li posso aggiungere aggiungi clausole no no niente proroga di un anno alla fine del campionato ultima stagione proroga di un anno contratto di anno se nell'ultimo anno del precedente accordo di giocatore mette vabbè sì più di 10 partite facciamo 20 per la gente vediamo un po' se accetta grande così 250 non è affatto male però visto che a noi ci servono terzini sinistri io vado a cercare un altro do do nazzan se non erro non mi ricordo questo gran fenomeno non è come caseres ma purtroppo no appunto non è affatto un fenomeno però vediamo lo staff che ne pensa e poi semmai semmai non lo so vediamo altri terzini c'è un altro che si chiama un altro che vedrete nel tutorial non vi voglio dire tuttora perché se no non mi andrete a vedere anche l'altro video però ci sono davvero giocatori interessanti quindi mi raccomando vedete ovviamente questo video e vedete anche il tutorial che ho fatto precedentemente e credo settimana prossima o giù di lì dovrebbe uscire un altro video o due come ho già detto su altri giocatori svincolati perché ce ne sono davvero tanti ma io ho scritto Tony no? Tony ho scritto Tonil o Tony perché non mi trova è sempre un problema con questo Tony a volte me lo trovo a volte no non riesco a capire perché forse sono fortunato ma neanche l'idea one moment please si chiama semplicemente Tony Tony e basta nome zito Luca Tony no non è lui non riesco a capire perché a volte me lo trovo a volte no ora me lo vado a cercare un attimo da solo a fra poco mi è bastato semplicemente mettere Tony e spazio e in pratica me l'ha trovato non ha molto senso però sti cazzi oddio spero di averlo trovato veramente credo che sia lui ok non è a 28 anni è un terzino sinistro non è fortissimo come Cazeres però non è nemmeno una sega e visto che ci serve fortemente un terzino sinistro e lui addirittura uno dei migliori pensate un po' preferisco dargli un'occhiata allora a Dan eh addirittura solo due stelle e mezzo molto strano addirittura un buon acquisto per molte squadre serie B ma nemmeno troppo vediamo quanto vuole di ingaggio Melonna la famiglia è molto paziente e preferisce e felicità dei suoi assistiti rispetto al denaro beh eh si il Adan dice che non vuole venire da noi perché è inadeguato rispetto alle sue aspettative ma vabbè non voleva venire quindi era proprio inutile insistere addirittura il big ribca due stelle vabbè non chiede nemmeno troppo come ingaggio però perché due stelle è interessato un po' scusate serie B perché così scarso quanti anni ha 26 beh non è affatto male perché non lo volete invece di full hop che ne penso due stelle e mezzo ma andiamo a vedere un po' il contrattino quanto vuole bene appunto è extra comunitario quindi non può proprio venire quindi il problema non ce lo poniamo proprio vediamo full hop 30 anni vediamo un po' quanto ci chiede se vabbè 205 per una riserva addirittura non è questa grande cosa eh io aspetterei perché c'ho un altro di portiere di 20 anni Idir si chiama tanto lo vedrete a breve quindi vabbè il trasferimento di Monaco è stato chi se ne frega ma Dlug ci credono tanto 3 e mezzo addirittura non è molto interessato a venire da noi mi fa molto merito questo ovviamente sono ironico però c'ho anche altri giocatori in mente voglio vedere comunque quanto ci chiede chi gioca non sarebbe un grande passo avanti per la propria carriera fa molto piacere è molto gentile ovviamente i giocatori del genere non sono il top però uno ci prova sempre però nemmeno sparare troppo forse dovrei iniziare ad alzare un po' la cifra minima comunque Boonsong 4 stelle è un po' già più interessato rispetto a quell'altro Madlung e vediamo un po' quanto vogliono allora titolare facciamo almeno fino al 2015 facciamo a questo punto 110.000 bene meno lui vuole venire almeno state vedendo un bel po' di rifiuti andiamo avanti per il momento solo con Brito ci siamo riusciti a a firmare un contratto e non siamo nemmeno sicuri di volerlo ecco molto bene nessuna offerta per due giocatori per Ciccarelli è migliore io questo non lo riesco a capire soprattutto per migliore che è cercato detto questo andiamo a parlare un attimo con lo Spezia un secondo solo andiamo a discutere circa la linea societaria poi facciamo un altro po' di video e ci salutiamo perché penso di non fare più video di 40 minuti ma di 20 così da poter permettere a tutti di vedere i miei video e soprattutto perché ne farò 3 a settimana quindi avrete da vedere durante la settimana insomma e se poi non ne avete abbastanza di questi video andate anche sull'altro mio canale diciamo che io qui posto video quando su quel canale non postiamo video o non posto io personalmente video quindi diciamo che mi alterno e riconsiderare le linee societarie proposte questo andiamo subito a vedere anzi io direi così no niente non direi niente perché non vorrei nemmeno fare video troppo brevi andiamo a riconsiderare le linee societarie proposte sì vabbè alla fine non è nulla di che mi chiede di cosa vorresti discutere con noi vorrei che mi fosse consentito usare uno stile di gioco basato sul possesso palla uno stile di gioco diretto un gioco difensivo offensivo difensivo ma alla fine io credo che questo sia a noi deciderlo le cose più importanti secondo me numero di giocatori grande spessore questo perché che ne so potrebbe aumentarci un po' il budget e vorrei che i giocatori più giovani per far sì che possano giocare abitualmente in prima squadra cioè giocatori un po' più forti basta così ok che ne so visto che io comunque non gestisco il mercato primavera dicendo questo potrebbero puntare a giocatori un po' più forti lo spessi avrà diritto all'indennizzo di 140 euro davide c'è ma l'ho preso io ora? no era forse l'unico uno dei pochi che avevo tenuto bene mi fa molto piacere soprattutto l'indennizzo di 140 euro guarda mi sto commuovendo commuovendo kirjiakos vediamo un po' io credo che dopo questi ci possiamo salutare vorrei arrivare almeno prima della partita e poi semmai fare nel prossimo episodio la partita kirjiakos non è molto convinto di venire con noi diciamo che lo staff è già un po' più convinto su di lui proviamo a fare questo il problema è che il massimo posso offrire 300.000 comunque sono giocatori che non vogliono venire quindi è inutile mi fanno fare le offerte l'unica cosa è che mi auguro che uno fra pannewitz e zucculini vogliano venire perché se no mi metto a piangere ah si non vogliono tanto cioè non vuole tanto pannewitz già sarebbe una grande cosa però non ti posso offrire comunque tutti questi soldi un po' meno facciamo 220 dai ah è pure disponibile a negoziare bene 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 quindi approfittiamo un po' 230 ah ma è proprio lui che cioè non c'è un procuratore quindi facciamo 240 ma io gli offro 275 per paura che offrendoci 250 poi non accetta quindi non ho intenzione di perdermi un giocatore come lui e quindi addirittura a zucculini 4 stelle e mezzo io ho sempre detto che era un mostro il problema è il problema è che secondo me non riusciremo mai ad offrirgli una cifra tanto alta proviamo 230 vedete 4 e 45 noi non ce lo possiamo permettere proviamo così se no devo aumentare eliminare proprio il budget trasferimenti che poi credo che sia una delle cose migliori perché tanto non credo che in questa finestra di mercato riusciremo a comprare giocatori non svincolati appunto cambia budget ok non così 27 euro budget trasferimenti vediamo se va così quanto ti possiamo offrire 300 no non me lo aumenta comunque perché non me lo aumenta comunque offri contratto no non riesco a capire perché ho aumentato la bomba il budget stipendi però non mi aumenta di tanto questo e quindi per non rischiare cacchiate scusate non per il momento non voglio provocire fare errorazzi si ovviamente Pannewich è un nostro obiettivo soprattutto se viene mi fa piacerissimo allora quindi Zucculini dobbiamo vedere Paolo Assunzao vabbè non vuole proprio venire è molto interessante quindi non ci provo proprio sinceramente Sissoko vediamo è inutile proprio perdere tempo con questi giocatori pure lui si vabbè chissà quanto chiede poi proviamo giusto così per sfizio non chiede nemmeno poi tanto rispetto a quanto mi aspettavo però chi se ne frega cioè non non sono interessato io Vicente chi era si Miguel Vicente si si giustissimo lui è interessato a venire o meno già di più però ha solo 3 stelle io direi di aspettare Marquez addirittura ha solo 2 stelle e mezzo Fernando Marquez non mi ricordo sapete quando l'abbiamo anche se ci sono anche tanti altri giocatori che potremmo prendere a meno comunque per Zucculini aspetterei un altro pro e ora va avanti il giovane Kranich diventa un professionista Kranich diventa un professionista quello che noto molto bene insomma è che la partita col Paris Saint Germain è due giorni dopo quindi davvero un bel tour de force però semmai col Paris Saint Germain faremo un bel po' di turnover o meglio con l'Etoile faremo un bel po' di turnover Bostoff offre Gorks del Reading se vabbè ti sti soldi perché siamo milionari il procinto di diventersi c'è rifiuta l'Atalanta grande c'è cuore spezziano cuore di spezia offerta del Bochum per Panewitz uè non me lo fregare che poi di che cos'è seconda divisione ma vieni nello spezia che te ne frega offerta del Dnipro per Miguel mamma mia Martin Petrov un mito una leggenda però solo due stelle e non è nemmeno troppo interessato a venire bastardo addirittura serie C1 eh si serie C1 pesfiziosamente vorrei vedere quanto chiede di ingaggio soprattutto che serie C1 non dovrebbe chiedere affatto tanto però si vabbè non voleva venire è una grande dispiacere perché su Petrov Petrov cioè mi faceva piacere addirittura Iaquinta solo due stelle però guardate quanto chiederebbe poco io ci penso intanto su Iaquinta Meyerhoffer Meyerhoffer già ci credono di più con tre stelle e mezzo Elguson idem ora vediamo un po' questi attacchi allora questo è Idil il portierino che vi dicevo prima eh si leggi rapporto abilità attuale abilità potenziale Antonio ritiene potenziale il portiere Idil potrebbe in futuro portare a non sfigurare nella serie A quindi io lo contatterei ora subito now per diciamo per fare far si che lui sia il futuro le ali insomma facciamo fino al 2018 24.000 24.000 va bene 25.500 fino 2016 però dai eh va bene così dai basta che vieni giovane promessa Idil preso anche il portiere ora quindi sperando che non ci siano altre squadre interessate a lui questo balde che l'ho scoperto l'altro giorno giocando insomma non mi sembra affatto scarso vi spiego anche il perché perché ha ottime alcune ottime ottime qualità e soprattutto per quello che chiede poi come contratto cioè 21.000 euro per un anno non è proprio un cacchio però aspetterei un anzi leggiamo diciamo il rapporto serie C1 addirittura non ci credono affatto però guardate cioè quello che io rimango per pressa che comunque per un 37enne ha resistenza 11 gioco di squadra 13 intuito 14 impegno 13 determinazione 14 che comunque un 37enne che c'è ancora voglia di giocare e di dare il top bauma ad esempio bauma ha più stellina rispetto a balde e chiede anche molto di più vediamo quanto anche vogliono venire da noi loro lui è abbastanza interessato balde pure molto interessato sì a breve si fa così ora vi saluto anche perché intanto ci penso un attimo su cosa fare appunto su fra balde bauma e anche fra la prima punta che una vorrei prenderla forse e quindi come sempre vi invito a condividere il video questo per poter farmi crescere sempre di più iscrivervi se non siete iscritti come sempre un saluto da Mech94 e da Football Manager Italia ciao ragazzi